Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video. Finalmente dopo due mesi di assenza ho iniziato a coltivare e questa volta come varietà ho scelto una più speed auto della Sweet Seeds che è un incrocio tra una Critical Mass e una Speed Devil numero 2. Ho scelto questa varietà in particolare perché impiega solo 49 giorni dalla germinazione alla raccolta e a Natale dovrò ritornare in Italia, quindi se avessi preso una varietà che impiega più tempo non avrei avuto tempo per stare dietro alle piante. L'ultima volta che ho coltivato era in estate e come ho spiegato nei miei video precedenti ho avuto problemi di temperatura ma anche se siamo ora in autunno questo problema persiste. Infatti la temperatura interna raggiunge i 34 gradi con un tasso di umidità del 20-30% e ciò non è buono perché le piante di cannabis prediligono una temperatura tra i 21-29 gradi con un tasso di umidità del 50-60%. Per ovviare questo problema ho comprato un condizionatore e umidificatore così da regolare sia l'umidità che la temperatura. L'ultima volta i miei vicini mi hanno fatto notare che gli odori fuoriuscivano dalla Globox e per evitare anche questo problema ho comprato sia un neutralizzatore di odori della Ona sia un dispositivo che si chiama ozonizzatore. Questo dispositivo rilascia ozono nell'aria e l'ozono è un ossidante che distrugge le molecole nell'aria e neutralizza gli odori. Queste due piante le ho messe qualche giorno fa e stanno crescendo abbastanza velocemente e ho comprato altre 4 semi di questo tipo perché dopo Natale le continuerò con questo strain. Per questo video è tutto e ci vediamo nel prossimo video.